Música Eccomi qui ragazzi ben ritrovati nel vostro Vapor Stumblr Stumblr perchè portiamo Stumble Guys Secondo episodio di questo gioco all'interno del canale Il primo episodio vi è piaciuto un sacco e quindi io vi ringrazio di questo E naturalmente lasciate un bel mi piace se ne volete vedere un altro Sempre su questo canale, iscritti al canale, attivate la campanella Fate cose particolari perchè siamo in road 14.000 iscritti Quindi questo è il momento giusto per andare a farlo Vi dico che la situazione si fa molto interessante Perchè abbiamo un'offertina all'interno dello shop Che è l'offertina quella per rimuovere la pubblicità Al pacchetto principiante per 3 scade fra un po' di ore Lo andrò a prendere in questo video Quindi restate sintonizzati perchè lo andremo a prendere Vi ricordo come al solito 2-3 cosette Trovate qua sotto il link ai miei social network, TikTok e Instagram Trovate il link per abbonarsi al canale e robe particolari Quindi fatelo se diciamo volete supportarmi in modo extra Vi faccio vedere che adesso schiacciando il tasto acquista Andremo a sbloccare questo fantastico pacchettino Olè, hai effettuato l'acquisto Ok, togliamo questo Ed eccolo qua, acquisto correttamente, completato E logghiamo dall'iPad per andare a vedere assieme cosa ho appena comprato Perchè sinceramente non ne ho un'idea Stambolino, eccolo qua Bello sotto, bello pronto per essere aperto Lo apriamo in modo abbastanza importante e prepotente Perchè sono curioso di sapere cosa c'è da fare In teoria qua, se noi andiamo nel negozio Dovrei aver sbloccato appunto questo Queste 1400 gemme Abbiamo una marea di roba Abbiamo anche i premi gratis Che sono qua, li vedete che c'è il pinguino che gira Robe particolari Insomma, non dovrei avere più la pubblicità Quindi non ci dovrebbe essere più la problematica della pubblicità All'interno del mio account qua Sono qui però per andare ad attivare il pass Il pass lo andrò ad attivare all'interno di un altro video Se volete che io shop il pass mi raccomando dovete spammare questo video a tutti i vostri amici Basta condividerlo affinché questo possa accadere Non voglio perdere troppo tempo Buttiamoci subito dentro la battaglia Perchè ce ne saranno delle belle da vedere E son curioso di provare altre mappe Perchè io in realtà le partite che ho fatto sono veramente veramente poche Vi ricordo ancora una cosa Che probabilmente arriveranno delle live su questo gioco qua Delle live particolari dove farò dei tornei I tornei saranno fatti per gli abbonati Quindi coloro che vogliono partecipare ai tornei Devono essere abbonati al canale Quindi mi raccomando Se avete 99 centesimi ragazzi Abbonatevi e state belli a posto Con 1,99 euro avete la mia amicizia sui dei E tante cose belle Tante cose belle Ok no non era proprio un'idea troppo bella Questa qua è quella che ho appena fatto Vediamo se potrei No Così Così va male Così va molto male Non è la situazione che tutti si aspettavano Siamo 16 persone rimanenti In linea di massima dovrebbe essere un easy qualifier Siamo 8 ragazzi Dentro con 8 per la primo round 8 su 16 non è niente male Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di questo gioco qua Perché vedo che molti di voi iniziano ad apprezzare il game Lo vedo E questo mi fa un sacco piacere Mi raccomando Io guardo molto quello che Lasciate sotto i commenti Quindi commentate qua sotto di cosa ne pensate E soprattutto se vi siete persi il primo episodio Lo trovate nelle schede cliccabili qua in alto È un episodio di stumble guys Quindi dove vado sostanzialmente a chillarmela All'interno di un video Dove faccio una sorta di presentazione del game Per quelli che magari non lo conoscessero Adesso Stile fall guys Dobbiamo sostanzialmente evitare questo Molto molto easy Siamo ormai dei masters in questo Col jumperino E il liquidello Andiamo a superare il toro Invece no Perché anche se saltiamo Comunque lui Se la cilla per bene Qua invece è stato un grande superamento Attenzione 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 Non posso rischiare di cadere adesso Olè 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 Adesso uno E adesso due Che caspita sto facendo Non ho un'idea Olè 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 Ecco questo Ho pigliato Ho pigliato una roba in faccia Attenzione Passa sotto Attenzione Passa sotto Attenzione Passa sotto Attenzione Passa sotto Olè 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 Qualificato Per primo Signori Sì Questa semifinale qua Dove siamo arrivati I primi È stata una delle semifinali più Belle che ho giocato in vita mia Perché Questa mappa qua È molto molto caruccia Fatta molto molto bene Per quanto mi riguarda E devo dire Devo dire Che l'ho L'ho destreggiata alla grande Secondo me Tramite dei movimenti particolari Ho fregato un po' il sistema Guardiamo se riusciamo a vincere La partita Perché Non sono ancora riuscito An andare a vincere Quindi Purtroppo La partita Le partite che ho fatto L'altra volta Sono andate abbastanza male Cerchiamo di focalizzare La mentalità Perché qua È la vittoria finale Dobbiamo Cercare semplicemente Di evitare Alcune cose Perché qua Abbiamo seguito Mi sa la strada Proprio sbagliata Quella che non dovevamo seguire Ok Perfetto Ho già capito Che la situazione Poteva essere migliore Invece no Invece no Perché qua Attenzione che approfittiamo Di una cosa interessante Questo Questo è un grande passaggio Che ho fatto Non ci posso crede Non ci posso crede E avevo vinto Se passavo lì Avevo vinto Easy proprio Easy chill E no Però vedi che non riesco Porca E qua ho perso E questo è stato È stato È stato il motivo Per il quale ho perso La partita Molto molto bene Molto molto bene Ok Io farei un passaggio Da questa parte di qua Ma c'è un buco Ma vuota El Ma c'era un buco invisibile Che non era mai nella vita Un buco Niente Eliminato ragazzi Poco da fare C'è poco da fare Bruttissima situazione Vince Prato Sergio Se la porta a casa Con una certa importanza Il pratone Se la porta a casa Con una certa importanza Niente da fare Ehm Provo male Questa Questa qua Non mi piace Non mi piace troppo Però Ci iniziano a spammare Pacchetti promo Pacchetti cose particolari Abbiamo però i premi gratis Che basta Schiacciamo il tasto gratis E non vediamo Le pubblicità opzionali Basta che Giriamo Apriamo Vediamo la ruotella Che se la gira la grande E ci dà 5 gemme Attenzione 5 gemme per noi Altra ruotellina gratis Subito Dentro Guardando se Dai ti prego Qualcosa di leggendario Ce l'hai da darci Ole 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 Altre 5 gemme Le gemme non è che Me ne faccia più di tanto Perché intanto ormai Ce le abbiamo le gemme Per shopparsi il pass Vi ricordo che c'è anche La possibilità di ottenere Altre skin Altre cose Attraverso i premi gratis Dato che ho shoppato La pubblicità In realtà Le pubblicità Di questa Di questa roba qua Con le pubblicità opzionali Dei 4 opzionali Non contano All'interno Del pacchetto E quindi sei obbligato A guardatele lo stesso Le guarderò Perché voglio sbloccare Delle skin Quindi cerchiamo Di fare Il meglio possibile E questa è un po' La situazione attuale Del mio profilo Ho fatto un po' Di shoppate Ho accumulato Un po' Di gettoni Ho accumulato Un po' Di gemmozze In realtà Però Dobbiamo ancora fare Molte molte copie Perché siamo soltanto 80 Vorrei prendermi anche Poi delle vittorie Insomma Delle cose particolari Arriveranno su questo gioco Statene sicuri Il video termina qua Spero che vi sia divertiti E spero che vi sia piaciuto Come al solito Vi ricordo Se non l'hai ancora fatto Lascia like Iscriviti al canale Attiva la campanella Perché è importantissimo Se ti fa piacere Puoi condividere questo video Con i tuoi amici E soprattutto Abbonarti al canale Se non l'hai ancora fatto Perché L'abbonamento È sottovalutato Ma si può fare Inoltre Faccio questo annuncio Particolare Per quelli che sono arrivati Fino alla fine del video Perché ho sbloccato La funzionalità Super grazie Se qualcuno di voi Vuole supportarmi Con semplicemente 99 centesimi Mi sembra Lo può fare Il primo che farà Un super grazie Otterrà la mia amicizia Quindi fallo E mandami la foto Su Instagram Ciao bello Ci vediamo domani Alle 14 Se no oggi pomeriggio in live